Nella festa liturgica dei Santi Fabiano e Sebastiano, la chiesa parrocchiale di Falcinello ne ha celebrato solennemente il ricordo con una messa preseduta dal Vescovo Diocesano, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, concelebrata con Don Ercole Garfanini e alcuni parroci del vicariato. La celebrazione è stata l'occasione per ricordare anche Don Livio Beatini, mancato nel 2013 ma rimasto nel pensiero e nel cuore dei suoi parrocchiani. All'inizio della celebrazione a lui è andato un pensiero commosso a nome della comunità parrocchiale. Me lo ricordo, anche se dovrei dire lo vedo, essendo ancora presente viva in me la sua persona, pronta ad ascoltare e a dialogare con chiunque avesse bisogno, pronta ad accogliere ed ospitare chiunque bussasse alla porta. Aveva un animo umile e generoso, un sorriso per tutti e un interesse sincero per ogni singola persona. La sua disponibilità verso i bisogni di ognuno, la sua presenza costante, la sua capacità di ascolto costituiva in me un grande punto di riferimento. Don Livio è stato punto di riferimento per tante generazioni, avendo guidato la parrocchia di Falcinello per oltre 60 anni di sacerdozio. Sotto la sua guida pastorale e il suo ministero sono nate delle vocazioni, tra queste proprio quella di Don Ercole che ha voluto così ricordare Don Livio. E proprio mi pare che questo 40 anni di vita sacerdotale passata con lui mi sembra poi di avere come essere stato una testimonianza di Vangelo vissuto, soprattutto Matteo 18-20, là dove due o più sono uniti nel mio nome io sono in mezzo ad essi. Ecco questo mi pare che sia stata una testimonianza che abbiamo dato, spero di averla data, con Don Livio e mi pare che questa sera lo sento particolarmente presente e felice e penso che dal Paradiso mi voglia anche a lui dire grazie per questo ricordo che insieme parrocchia e circolo culturale e la consulta. Ecco insieme abbiamo programmato questa festa, mi pare che sia riuscita bene e ringrazio anche te la Liguria Sud per il servizio che ha fatto. Al termine della celebrazione la comunità parrocchiale ha voluto ripercorrere attraverso un breve filmato i momenti significativi del ministero pastorale di Don Livio ma anche il ricordo della sua concretezza nel porsi al servizio della sua gente con passione, trasporto e grande generosità, tanto da farsi protagonista anche nella realizzazione di opere pubbliche e parrocchiali ancora oggi utile e necessarie. Il ricordo di Don Livio ha avuto poi un momento solenne con la scopertura di una targa che il Vescovo Diocesano nella preghiera dei presenti ha benedetto e rimarrà a futura memoria.